E quindi anche per quello un po' quando vedi film dei brand, soprattutto di brand di cui ho raccontato la storia, dico ok, è come se, non lo so... L'ho fatto meglio io. Eh, capito! Non vorrei dirlo a Michael Mann, ma l'ho fatto meglio io. Allora, 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 buon cinema a tutti, bentornati anche questo mese a Il Cinema Fuggente e bentornati con un nuovo ospite anche questo mese. Un ospite, io ve lo dico in anticipo, non so se lui lo sa, che è stato lo stimolo che mi ha spinto poi a fare i podcast e a entrare nel mondo dei podcast, dal cui non esco, è un tunnel che non si esce. Vedete una location, la solita location di Cinefollie, non siamo in location esterne perché abbiamo avuto difficoltà a vederci di persona, ma ve lo spieghiamo dopo avervi presentato, ve lo spieghiamo insieme dopo che vi ho presentato l'ospite, Max Corona. Ciao Max! Ciao Mattia, grazie mille dell'invito e sono orgoglioso di averti introdotto a questa nobile arte del podcast che è vero che non si torna più indietro effettivamente. Sì, ci assorbe e coinvolge. È particolare, il podcast è interessante, è un format interessante. Ma andiamo subito a parlare del tuo podcast. Cioè, io ho cominciato a scoprire il mondo dei podcast grazie a te che seguivi il mio canale YouTube. Noi tra l'altro ci siamo conosciuti, se non sbaglio, per una mia vecchia challenge. Sì, effettivamente è andata così. Allora, io ti seguivo perché sono da sempre un grande appassionato di cinema e seguivo il tuo canale YouTube. E non so in che occasione, onestamente non me lo ricordo, tu avevi indetto questa challenge di raccontare, se non erro, un film che ci era piaciuto, però in termini negativi. Cioè, come se non ci fosse piaciuto. Sì, è vero. Se non mi ricordo male, non saranno dieci anni fa, ma quasi. No. Quasi. Dieci anni no, ma sei, cinque sicuro. Una cosa di questo tipo. Non mi ricordo neanche io il film, ma mi ricordo questo meraviglioso Headknocker di Hitchcock che avevi tu, che lo usavi come coprotagonista del video. Sì, sì, è stata. Allora, io all'epoca avevo una pagina di cinema che si chiamava Recensioni Flash, che poi è diventata recflash.it, che era un blog. E diciamo che era un po' la mia mascotte, il buon vecchio Hitchcock, che insomma era questo pupazzetto che mi accompagnava sempre, che era sempre incerto sui suoi giudizi, perché appunto la testa gli ballonzolava da una parte all'altra e non era sicuro se dire di sì o di no, se gli era piaciuto o meno questo film. Io grande fan di Hitchcock, quindi diciamo che era un po' il mio portafortuna. Invece adesso fai tutta un'altra roba, adesso ti sei spostato dal mondo del cinema e fai un altro tipo di podcast, anzi due. Sì, sì, diciamo che tutta un'altra roba forse no, perché quello che mi è sempre piaciuto del cinema e del perché io ero ossessionato dal cinema quando andavo a scuola è perché mi piaceva semplicemente andare in un altro mondo e sentire delle storie di persone di questo tipo qui. Quindi quello che faccio ora è un po' collegato perché comunque racconto delle storie di persona. Stavolta io in prima persona le racconto con un format molto romanzato che però racconta le storie che si nascondono dietro i più grandi marchi e le persone che li hanno creati. E ho un altro podcast oltre a storie di brand che si chiama Brandy, che è un podcast giornaliero con un format molto meno strutturato in cui parlo un po' di quello che mi interessa, anche di cinema ogni tanto, sempre comunque con il taglio economico di marketing eccetera, però è molto più leggero, molto più veloce. Storie di brand, io ne sono rimasto appassionato per tanti viaggi in macchina, mi ha accompagnato ad ascoltare proprio queste storie ed è stato poi, dicevo, il motore che ha fatto partire il cinema fuggente che in un certo qual modo ho clonato le tue idee, ho copiato il tuo modo di fare podcast, perdonami ti ho rubato il modus operandi. Lo considero un omaggio. Sì, una citazione, perché no, mi piace proprio il modo in cui tu racconti delle cose che magari potrebbero sembrare delle robe tra virgolette da Wikipedia, ma tu ci metti una personalità, ci metti una struttura, uno studio, anche una narrazione, possiamo dire cinematografica, ma sei molto legato al radiofonico, l'uso degli effetti sonori, delle musiche che ti vai a cercare, il fatto che un paio di volte mi hai fatto fare dei camei proprio per cambiare anche le voci, quindi hai sempre dato questo taglio narrativo ad una cosa che poteva essere magari della mera nozionistica e invece da te c'è proprio l'avventura, il fascino dell'avventura. Quella è un po' la mia missione, cioè rendere di intrattenimento qualcosa che non è di intrattenimento in modo trasversale e quindi quello che io voglio fare è appunto fare quello che una volta si chiamava l'audiodramma. C'è un film di Woody Allen che è Radio Days, che racconta il suo amore per questo radiodramma che sentiva da piccolo il protagonista del film e che lui si immaginava tutte queste narrazioni, tutti questi personaggi, questi supereroi ed è un po' il figlio conduttore del film e secondo me mi piacerebbe fare una cosa del genere che comunque ci fa immaginare, il bello dell'audio è che ci lascia la completa libertà di immaginarci quello che ci pare, come ci pare. Che poi tra l'altro il radiodramma è ritornato fuori anche l'anno scorso, anzi quest'anno, perdonami, con l'ultimo film di Scorsese che ha una parte di radiodramma, Killer of the Flower Moon, non so se tu hai avuto modo di vederlo. Non l'ho ancora visto. Ok, è su Prime Video quindi se vuoi recuperartelo è gratuitamente reperibile. Senti, tu hai detto io mi stacco dal mio passato di appassionato di cinema, divento, mi professionalizzo sul discorso economico ma il max cinefilo cosa ama, che film ti piacciono, quali sono i film diciamo cardine della tua vita se vogliamo? Io sono sempre stato, non so perché, perché comunque li ho avvicinati da relativamente giovane, e un grande fan sono sempre stato di Alfred Hitchcock, come dicevo prima, e di Woody Allen. Io vorrei che La mia vita fosse un film girato da Alfred Hitchcock e scritto da Woody Allen. Porca miseria! Sì, ho questo feticismo. Qual è la storia che dici, oh cazzo questa quanto sarebbe bello se fosse stata La mia vita? di Hitchcock o di Allen e tu la guardi? Allora, Woody Allen ce l'ho subito in mente, che è Misterioso caso di omicidio Manhattan, che comunque è un po' anche una citazione alla finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, quindi diciamo che è un po' la cosa più vicina a Hitchcock che ho trovato, però mi piace tantissimo la sua ironia, il suo modo di gestire anche i rapporti umani, in questo modo che non sono mai perfetti e sono reali che tu ti immedesimi e ti diverti, è anche un modo di vedere e di sentire la vita un po' leggero, ma che non è leggero allo stesso tempo e è il posto in cui io, quando vedo un film di Woody Allen, mi sento tranquillo e quindi so che è molto personale come cosa, però anche l'ultimo film di Woody Allen che ho visto, quello che è uscito dal cinema da poco, che mi rendo conto non essere un film... Coup de Chance Esatto, essere un film dei suoi migliori film che ha fatto, l'ho visto anche doppiato, quindi c'era veramente una cosa che non andava, esatto, però nonostante quello io sapevo di essere nel mio posto sicuro, perché stavo, ero in quel mood lì. Guarda, io ti dico questo, così ti tranquillizzo, per me Coup de Chance è uno dei suoi film più belli, c'è niente da fare, l'utilizzo che ha della fotografia, il modo in cui ti racconta i personaggi, anche attraverso le scenografie, è una cosa incredibile, per me è un film, io l'ho visto una volta sola perché ho avuto la fortuna di vederlo in lingua al cinema ed è un'esperienza, cioè io mentre guardavo questi qui che parlavano in francese ho detto ma no, io il primo film di Woody Allen in francese lo vado a vedere doppiato, ma state scherzando? No, no, infatti è veramente terribile il doppiaggio. Appena esci recuperatelo in lingua e poi mi dirai perché per me è favoloso. Ok, ok, lo recupererò. Entriamo nel vivo della puntata, tu fai storie di brand, fai brandy, io parlo di cinema e soprattutto quest'anno, cioè in realtà già dall'anno scorso, ma soprattutto quest'anno abbiamo una sovrappopolazione se vogliamo di film legati al mondo dei brand, sia a livello di produzione sia a livello di successi commerciali. Pensiamo all'anno scorso ai due più grandi successi economici che sono stati Barbie e Super Mario. Secondo me da quello che ho visto e da quello che è uscito in questi ultimi anni è un trend, quello di comunque prendere queste storie che mettono le loro radici sulle storie di prodotti e di brand che circondano le nostre vite. E questo, se ci pensiamo, è normale perché comunque i prodotti, le storie dei brand sono comunque cose che noi ci portiamo sempre addosso e che noi riempiamo sia di emozioni che di ricordi. Quindi se noi vediamo una determinata bambola, un determinato paio di scarpe, non è che vediamo solo la storia che c'è dietro quel paio di scarpe, ma abbiamo in mente anche tutti i nostri ricordi, tutte le nostre emozioni che attacchiamo a quel prodotto. Quindi ci sta che questo modo nostalgico ci possa spingere anche a guardare un film che da quel punto di vista ha un grande appeal per le persone. Perché se tu mi fai un film su le Jordan, le Nike Air Jordan, hai comunque già una parte di marketing che non devi fare perché non devi spiegare su che cos'è il film. È palese che è su quello e quindi già il messaggio che devi comunicare è molto più semplice. C'è anche da dire che ci sono tantissime storie interessanti che si celano dietro questi prodotti e questi brand, che sono le storie di persone, le storie di vita, ma banalmente non te le devi neanche troppo inventare perché sono talmente pazzi alle volte che dici ok abbiamo la storia già fatta. Ti faccio un esempio, l'ultimo film di Michael Mann che è uscito, Ferrari, lì non c'è un intento di comunicazione, di marketing come potrebbe essere in altre situazioni come quella di Super Mario, come quella di Lego Movie o di Barbie che dici ok sono dei film che sono stati costruiti per essere apprezzati dal pubblico ma anche perché si portano dietro tutto un aspetto di marketing e di comunicazione che poi farà bene al brand stesso. Il film di Ferrari è un film che parla di una persona che ha creato delle auto che casualmente si chiamava Ferrari, quindi diciamo che è un trend, io lo vedo come un trend, ce ne sono molti, ce ne sono tanti, un po' forse perché sono film che vanno più sul sicuro, quindi sono già comunque dei film che si vendono da soli e quindi se ne producono tanti anche per quello credo. Secondo me più che si vendono da soli sono dei film che hanno una buona base di partenza per esempio il Marvel Cinematic Universe dove tu hai già la base dei fumettofili, fermo restando che anche i dati statistici dicono che tutto l'universo cinematico della Marvel non è servito a vendere più fumetti, è servito solo a diffondere di più questo brand che poi è diventato Pupazzi, è diventato Zainetti per la scuola, è diventato un sacco di roba. Però non, qui mi sono anticipato un po' la domanda però, una delle varie critiche che si fanno ai film legati al mondo dei brand è li fanno solo per vendere più roba. Ora, mi sembra un po' inverosimile, dopo non so come la pensi tu, che Barbie o la Nike o Super Mario, quindi la Nintendo, abbiano bisogno di spendere dei soldi in un film per vendere più prodotti. Non so come la venga. Allora, qua è un po' complicata la situazione, cioè è interessante perché prendiamo due film che potrebbero avere lo stesso intento che sono quello di The Lego Movie e Barbie. The Lego Movie è stato un po' al primo, lo Spartiacque, che ha cercato di indirizzare la propria comunicazione non più sui bambini che utilizzano il Lego, ma sui genitori che comprano i giocattoli ai figli. E quindi, realizzando un film per i genitori che potesse piacere anche ai figli, diventa un modo per spingere anche la scelta di comprare un giocattolo che poi influisce sulle vendite. Lì cosa hanno fatto? Hanno preso l'essenza del brand, che è quella di liberare l'immaginazione, l'hanno proprio portata al suo scheletro più essenziale e poi ci hanno costruito intorno una storia, una bella storia, una cosa divertente che potesse funzionare come film a prescindere. E lì è ovvio che in quel momento, quando esce il film, tutti andranno a vedere il film, le vendite dei Lego magari non aumentano. Però è quello che potremmo definire brand awareness in un certo senso, perché tu poi quando penserai di nuovo ai Lego, ti verrà in mente l'essenza che era stata racchiusa in quel film lì, cioè quello di liberare l'immaginazione che è stata impacchettata talmente bene che per te sarà più semplice poi comprare i Lego. E effettivamente dall'uscita del film Lego Movie, il brand Lego ha acquisito valore in generale. Quindi è una delle cose che sono state fatte, però non indirettamente, magari non ha influito direttamente sulle vendite. Così come il film Barbie, che secondo me è un po' una promessa mancata in questo senso, se noi consideriamo la creazione di un film come l'abbiamo intesa con The Lego Movie, cioè portare all'essenza un concetto e poi crearci sopra una bella storia divertente, intrattenente. Secondo me lì non c'è stato ben chiaro qual era l'essenza che volevano trasmettere. E in quel caso però l'obiettivo, io ho percepito essere quello di cambiare la percezione che c'era comunque nei genitori che rendevano le Barbie ai figli, alle figlie. Barbie è stata per anni il simbolo della bellezza esteriore superficiale e per anni è stata tra virgolette in un certo senso boicottata da tutti quei genitori che non volevano dare adito a questo tipo di bellezza superficiale. Allora la Barbie che ha fatto, ma l'ha fatto già dieci anni fa con un bel documentario che diciamo riprende tutti gli step che hanno fatto all'interno della Mattel per cercare di cambiare questa immagine che si era creata e quindi da lì sono nate tutte le varie Barbie, con tutte le forme diverse, etnie diverse e però serviva qualcosa che fosse, che facesse diventare chiaro a tutti cosa stava succedendo per la Barbie e che potesse essere un giocattolo anche per tutte quelle nuove generazioni che vivono in un mondo diverso da quello che era nato in principio. Quindi vendono di più? Forse no, però cambiano molto della percezione che ha la persona del brand, quindi alla fine l'obiettivo è quello di vendere più oggetti? Sì, però non è un male, cioè se il film è figo poi si cazzi, no? Assolutamente. Insomma, ma hai detto tra le righe che The Lego Movie ti è piaciuto e Barbie no? Allora, secondo me The Lego Movie è un bel film, Barbie proprio a livello di film non mi è piaciuto perché secondo me per essere brutali la trama non ha nessun senso e quindi io posso capire che piaccia, io per farti capire ero in un cinema qua a Roma in cui era stracolmo di persone e già quello mi piace perché quando vedo tanta gente che è al cinema mi piace sentire poi il sentimento generale che contagia un po' tutti. Erano tutti vestiti a tema, era pieno di americani che ridevano ad ogni minchiata, ridevano sempre. E quindi un po' mi piaceva e un po' dicevo ma cosa mi sta sfuggendo? E quindi posso capire che piaccia, a me personalmente non mi è piaciuto, mentre The Lego Movie ha un sacco di citazioni, lo trovo anche un film molto intelligente nel trattare il suo tema e non vuole fare nient'altro, vuole raccontare quello e lo fa nel migliore dei modi. Barbie secondo me vuole raccontare tante cose e non ne racconta neanche una nel modo preciso. Sì no, praticamente per riassumere questo pensiero, The Lego Movie utilizza il brand Lego per fare cinema, Barbie utilizza il cinema per parlare del brand. Esattamente, guarda l'hai riassunta in modo essenziale. Sul discorso brand che fanno per vendere le cose abbiamo esaurito, cioè abbiamo secondo me esaustivamente raccontato un po' tutto, parliamo dei brand che non ne escono bene, cioè ci sono quei brand che vengono raccontati che però insomma diciamo che ne esci, che non è che hai una grande positività nei confronti di questi marchi. Sto pensando naturalmente a The Social Network. Sì, allora, come dicevamo prima, alla base ci sono le storie delle persone e quindi ci sono dei film, principalmente quelli un pochino più autoriali, come può essere The Social Network, che vogliono fare questo, ma anche Jobs di, non mi ricordo, forse è sempre lo stesso regista, se non erro. No, The Social Network è David Fincher, mentre Steve Jobs è Danny Boyle. Danny Boyle, comunque due film autoriali che raccontano la storia che vogliono raccontare ovviamente, quindi nessuno dei due film, il brand ne esce bene, tra virgolette, in quello di Danny Boyle non è neanche il principe protagonista del film, ma è più la figura di Steve Jobs, poi raccontatene in maniera incredibile, cioè prendendo solo il retroscena delle sue presentazioni, quindi c'è il retroscena della persona dietro il palcoscenico, cioè è incredibile quel film. Però sono film che raccontano, sono film quelli, non sono film di brand, quindi anche io quando racconto le storie dei brand famosi, quelli tanto famosi che hanno, per esempio ho raccontato la storia di Tinder, l'app di Matching, lì c'è una sorta di intriga e tradimenti che il brand effettivamente non ne esce bene, però io so che comunque quella storia lì è una storia interessante a prescindere, poi non so quanto effettivamente siano consapevoli i brand di quello che faccio io, poi di quello che fa David Fincher sicuramente ne sono consapevoli, però è una storia pubblica e quindi nel titolo c'è The Social Network, poi che racconti la storia di Facebook, non so neanche come vengono trattati poi i brand, come entrano in queste produzioni i brand, perché immagino diano il loro benestare al film. Sì, beh certo. Sono film comunque che si focalizzano sulle persone, poi sul brand comunque anche tipo Jobs, è un film che racconta la persona, che non esce assolutamente in modo limpido e positivo, però è anche vero che c'è una biografia di 800 pagine su Steve Jobs, una serie di cose che poi il brand vive anche al di fuori della persona e magari il brand fa questo ragionamento, ci sta, è figo perché racconta la persona, però il brand è altro, e anche staccarsi dalla figura della persona per un brand è il top alla fine, quindi forse lo vedono anche in maniera positiva. Ok, sì, beh, quindi era un po' come analizzare, tra virgolette, oppure puntare il riflettore in questo caso, su una serie di film che, come dici tu, non sono pensati come film di brand, però è anche vero che il titolo ce lo suggerisce. Per esempio, io mi immagino che un film che si chiama The Social Network, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, anche se parla dentro di sé di Facebook, non è il film su Facebook, così come Steve Jobs non è il film sulla Apple, e quindi in quel caso magari Apple non è che ha chissà che cosa da dire contro. Mentre The Lego Movie, Air, tra l'altro bellissimo, tu l'hai visto Air? L'ho visto, sì. A me è piaciuto tanto. A me è piaciuto, punto. Non tanto, non tanto, perché l'ho trovato un po' come è giusto che sia, però come il mio gusto personale, l'ho trovato un po' un'americanata. Beh sì, ma è un'americanata, cioè è l'idolo degli americani. È l'idolo degli americani e un po' mi risulta antipatico, però come film ci sta. Io ho una cosa che quando vado a correre mi viene sempre in mente quella scena di Phil Knight che corre pianissimo e che gli viene l'idea di provarci con queste scarpe. E poi racchiude bene il fatto che Nike è stato il vero brand che ha creato la corsa come attività di svago. E quindi è figo dire quando lui dice la gente non va a correre perché vuole vincere, vuole arrivare prima, ma semplicemente perché vuole correre. Ed è figo, quindi ci sta. Però questi film qui, domanda proprio liberissima, nel senso fantasiosa anche. Non sono tanto diversi, secondo me, dai film tratti dai libri? Cioè, qual è la differenza tra il film che parla del brand e il film che parla di una storia raccontata in un libro, secondo te? Il punto di partenza è un po' diverso perché il libro comunque è un'opera che nasce dalla mente di una persona che si è inventato una storia. Il brand invece, la storia di un brand nasce da una persona che voleva creare qualcosa per poter sopravvivere proprio nel suo basic, la missione più basica. E quindi è diverso raccontare una storia che parla di una persona che... Allora, ti faccio un esempio. Io le storie che racconto sono praticamente tutte uguali. Però le racconti in maniera diversa, quindi anche se sono tutte uguali, ascoltate lo storio di brand. Scusa, ritorno. No, sì, per finire. Allora, sono tutti uguali. Tutti sono made in Italy, tutti hanno cento anni di storia, sono tutti uguali. Però poi sta a me magari trovare quel punto che hanno di diverso. Mentre un libro è poi diverso da un altro libro. È come se tu volessi fare i film su tutti i libri di Agatha Christie, per dire. Che più o meno sono tutti uguali. Cioè, una persona che muore, tu devi trovare l'assassino. Però li puoi riraccontare partendo da dei punti diversi e creando delle storie diverse. Quindi, non lo so. Allora, io non ci ho mai pensato al fatto che i libri potessero essere simili alle storie dei brand. E secondo me sono un po' diversi. Però hanno dei tratti in comune. Quindi è un po' come l'ennesimo remake, visto che hai citato Agatha Christie, è un po' come l'ennesimo remake del film che parla di Dracula. Cioè, tu parli sempre di Dracula, ma in un certo qual modo devi trovare la visione giusta per far sì che sia nuovo. In un certo qual modo. Sì, 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 sì. Vabbè, ma è come se prendi i propri film di Agatha Christie, che c'è quello con Poirot degli anni 60, e c'è quello adesso uscito da poco con Kenneth Branagh. Sono dei film completamente diversi che raccontano la stessa storia. Sì, io ti dico, ho pensato a questo parallelismo perché mi ritrovo a riflettere sullo sfruttamento del brand libro, nel senso Twilight, Dracula, che abbiamo citato, Frankenstein. Ricaviamolo in varie fonti e dall'altra parte abbiamo la possibilità di sfruttare un brand. Questo magari non essendo, o se vogliamo, essendo il cinema dei brand una roba dove il privato ci mette dei soldi, magari non sono interessati a fare sei versioni dello stesso film. Anche perché, come dicevi tu, il libro è un'opera di fantasia. Però in un certo qual modo, quando qualcuno si mette a tavolino e propone l'ennesimo Frankenstein, probabilmente qualcuno ci pensa che sta sfruttando la stessa storia e dice, sì, vabbè, e quindi che gli volevamo raccontare a sta gente. Sì, no, certo. Non so se ho fatto... No, no, è certo, è certo così. Io più la pensavo sull'aspetto di adattamento di una storia che esiste già. La vita delle persone che hanno creato un brand è una vita... è più come se fosse un libro biografico, allora, che racconta la storia che non ha seguito delle logiche narrative, però che alla fine le logiche narrative le possiamo trovare comunque. io non credo che nessun imprenditore o imprenditrice abbia fatto le sue scelte pensando ah, questo ci starebbe bene nella mia biografia, quindi lo faccio a livello narrativo. Però alla fine... Non credo proprio. Alla fine poi si riassume tutto in conseguenze di scelte di determinate persone. Come succede anche nelle storie dei libri, dei film, quindi alla fine non cambia niente, mi hai convinto. Ti ho convinto. Mi hai convinto, Massimo, perché si tende a pensare ai brand come a qualcosa di dato e imprescutabile, ma alla fine sono solo le conseguenze di scelte di determinate persone che hanno poi creato qualcosa che ci possiamo mettere addosso, ma non è diverso dal dire dal pirata che sceglie per forza di andare per mare e saccheggiare le navi. Una storia di quelle che tu hai trattato in storie di brand che ti ha particolarmente colpito? Io quando mi fanno questa domanda la storia che mi piace di più è sempre quella di Patagonia, del fondatore di Patagonia Yvon Shoinar che è una persona molto diversa rispetto all'imprenditore classico che segue il profitto a tutti i costi mentre lui semplicemente era un ragazzo che voleva vivere nella natura e scalare le montagne e poi per guadagnarsi a vivere prima ha cominciato a fare dei chiodi di arrampicata ma anche lì perché ha fatto i chiodi di arrampicata? Perché voleva rispondere al desiderio di lasciare anche agli altri che venivano dopo di lui il piacere di superare questo ostacolo che era la montagna proprio anche che diventa un ostacolo non solo fisico ma anche personale di se stesso quindi arrivare in cima è un piacere perché si vedi il panorama ma anche perché superi un tuo limite e lui dice si ok ma se io metto dei chiodi poi quelli che vengono dopo di me hanno questo aiuto e quindi non avranno più quel piacere e quindi crea dei prodotti che possono fare in modo che anche chi viene dopo di lui possa raggiungere la cima della montagna senza essere aiutato e quindi comincia a lavorare a questa show in our equipment però lui lavora sei mesi e poi sei mesi va in giro per il mondo poi in giro per il mondo vede che alcuni usano dei pile per scalare le montagne quindi crea anche dei pile crea un altro brand Patagonia ed è tutta la sua vita una ricerca di bilanciare queste sue due nature cioè quello che aveva creato senza neanche rendersi conto magari che era una multinazionale ma anche quello in cui credeva cioè l'impatto che possiamo avere noi sull'ambiente ma un'altra storia che mi è piaciuta è quella di Earl Tapper che è il creatore dei Tapperware che era un inventore matto che aveva creato delle invenzioni totalmente fuori di testa per dirti una sua invenzione era una barca che era trainata dai pesci quindi dici non proprio una persona in linea con il pensiero generale ma poi crea questo questa bull per fare per portarsi in giro il pranzo e diventa un grande successo anche perché si è unito con con una partner particolare che è riuscita a vendere questa questo oggetto in maniera incredibilmente innovativa quindi anche lì c'è il la correlazione con il caso di incontrare delle altre persone che ti possono aiutare e questo anche questo va un po' contro il classico chi fa per tre fa per no chi fa per sé fa per tre devi sempre pensare a te stesso invece in realtà poi diventa tutto più facile se ti apri anche agli altri io dico sempre perché è vero secondo me chi fa per chi fa da sé fa per tre ed è verissimo però se vuoi fare per quattro devi essere in quattro quindi devi un attimo mettere in conto anche questo quindi queste sono le due storie che mi vengono in mente così però ce ne sono tante insomma mi sono affezionato un po' a tutti quelli che ho trattato anche lo stesso Ferrari è un personaggio secondo me incredibile non 100% positivo ma neanche 100% negativo insomma sfaccettato e quindi quando guardo il film e vedo che è tutto un avanti e indietro di relazioni extra coniugali e rapporti con la moglie insomma dico ok avevano tre ore che sono qua al cinema e non ho capito neanche dove vuoi andare a parare e quindi anche per quello un po' quando vedi film dei brand soprattutto di brand di cui ho raccontato la storia dico ok è come se non lo so l'ho fatto meglio io eh capito non vorrei dirlo a Michael Mann ma l'ho fatto meglio io no no ma è chiarissimo è un po' se leggi un libro ti è piaciuto tanto l'hai letto tante volte poi ti vai a vedere un film che ha un che è difficile poi che ti piaccia al cento per cento a me è capitato due volte con però al contrario perché io sono andato a vedere Cosmopolis di Kronenberg e non avevo letto il libro e mi è piaciuto tantissimo film meraviglioso fantastico poi quando ho preso Dom De Lillo in mano e ho divorato letteralmente quelle pagine ho detto ma questo è sì questo è un film che solo Kronenberg avrebbe potuto fare ma quello che fa Kronenberg nel film scalfisce solo la superficie di quello che fa il libro è qualcosa di incredibile stessa cosa Cry Macio Cry Macio è un film di Eastwood che io ho adorato e credo di averlo adorato solo io e pochi altri non l'ho visto questo a me è piaciuto tantissimo l'ho visto doppiato al cinema a me era piaciuto l'ho visto a casa in lingua originale ho pianto bellissimo e il Cry Macio scritto da da Anne Richard Nash il libro è un altro di quei libri che ho mangiato in pochissimo tempo e anche quello approfondisce in maniera fantastica tutti i personaggi e racconta una storia completamente diversa e lì però apprezzi anche l'adattamento che ne fanno gli autori nel senso sì ti rendi conto che il libro è una roba talmente complessa che non può essere portata al cinema in maniera fedele e capisci quali sono le scelte se il film è buono naturalmente altrimenti dici sì vabbè hanno fatto queste scelte sono pure sbagliate quindi c'è anche questo o magari si concentrano su un aspetto che per te è marginale e quindi non sei concorde con quella scelta sì uno degli esempi più banali è Twilight che secondo me hanno sbagliato completamente la produzione questa corsa contro il tempo per fare un film all'anno e alla fine li fanno tutti brutti ah io Twilight non sono non sono un grande stimatore da un primo punto di vista ma neanche non ho avuto modo di di immergermi nella fobia di di Twilight quando è uscito quindi non non saprei ma no guarda molto banalmente è è molto meglio rispetto a quanto è stato raccontato come tante volte cioè il film sono mediocre ma non sono orrendi ma sono orrendi perché li odiavamo tutti però visto che parliamo di libri tu sei uscito da poco con un libro parliamo di brand facciamo una marchettata assolutamente guarda ce l'ho qua da qualche parte te lo faccio anche vedere si chiama persone che pensano in grande e racconta proprio questo in realtà cioè il siccome avendo raccontato centinaia di storie di brand ormai in questi anni mi sono detto cos'è che c'è in comune tra tutte queste storie cos'è che le fa diventare poi delle storie di brand di successo e quindi ho sottolineato cinque aspetti che ho ritrovato in tutte le storie di cui il primo è il caso magari uno prende in mano il mio libro e dice acqua ci ci racconta la formula del successo e non c'è nessuna forma cioè è proprio il caso il primo elemento che c'è che ti salta all'occhio quando racconti una storia di brand poi ci sono le persone quindi anche lì è legato al caso ma le persone che che hai intorno influiscono moltissimo su quello che ti succede e poi ci sono gli altri tre che ti lascio scoprire ma ma racconta un po' attraverso le storie io ho scelto delle storie che sono raccontate nel libro che sottolineano un po' questi cinque ingredienti per creare una storia di successo che sono ingredienti in realtà che abbiamo tutti nelle nostre vite poi a me piace pensare che il successo di base non esista come entità da ricercare nella vita e quindi si ha più un percorso fatto di scelte di sensazioni e soprattutto di scelte con gli elementi che si hanno in mano in un determinato momento della propria vita perché è sempre facile dell'eterio giudicare la scelta di qualcuno fatta guardando indietro quindi è un libro che vuole dare più che la motivazione di seguire il proprio di fare la propria impresa il proprio sogno è di spero che possa dare un po' di serenità nel percorso perché non sempre il percorso è lineare però vedendo le storie degli altri si può capire come questo sia completamente normale che poi tra l'altro noi ci riempiamo la bocca di queste parole successo fama eccetera eccetera però quando ascolto un podcast come il tuo o queste storie del genere ci si dovrebbe rendere conto che il successo è solo la diretta conseguenza di un pensiero lucido e di un obiettivo chiaro che non è quello di avere successo e di diventare famosi ma di sviluppare qualcosa o come dicevi tu all'inizio di tirare a campare di fare un'azienda per campare si si ma è pieno di storie anzi è anche controproducente sentire la necessità e la foga di voler avere successo ad ogni costo perché se noi guardiamo le storie di il 99% dei brand o delle persone che poi hanno avuto successo nessuna di loro è nata con l'idea ora farò creerò il brand più grande del mondo era semplicemente un modo per dare voce a qualcosa che avevano dentro lo stesso Nike non è che volesse Phil Knight non è che volesse avere il brand migliore in assoluto voleva semplicemente provare a fare una cosa che nasceva da una sua idea e ha fatto anni vendendo scarpe con il suo allenatore nel retro della sua auto quindi nel bagagliaio quindi però lo fai se non credi in quello che se il tuo motore non è la tua idea o quello che semplicemente vuoi fare lo fai se invece è semplicemente avere successo crea uno stress una frustrazione che è difficile da sostenere sì anche perché poi aspetti solo quello e vedi che non ti arriva e quindi fai tutto contro voglia eccetera eccetera poi si entra in una sfera psicologica che forse è meglio non andare a approfondire perché se no partiamo di nuovo no no però una cosa una cosa di cui sono convinto è che l'idea non può anche essere non un'idea rivoluzionaria o un'idea neanche di prodotto può essere semplicemente l'idea che facendo quella cosa tu ti diverti puoi semplicemente ricercare quello e quello poi ti porterà dove ti porterà penultima cosa sì penultima cosa noi abbiamo parlato del cinema che viene sfruttato dai brand e quindi serve un po' per alimentare la cassa di risonanza per fare le cose e tutto quanto e però a volte anche il cinema fa nascere dei brand allora c'è i film che fanno nascere dei brand come può essere non lo so Jurassic Park che è diventato un brand a tutti gli effetti ma ci sono anche dei prodotti che sono diventati dei film e mi è venuto in mente quindi non è proprio la risposta alla tua domanda ma più o meno siamo sempre lì i Transformers che noi adesso colleghiamo ai film di Michael Bay però sono nati come dei giocattoli quindi per creare un modo per interagire si sono fatti i film che poi hanno dato vita al merchandising merchandising che è la stragrande maggioranza del guadagno di un brand quindi ci sta normale che Jurassic Park che nasce come un film di un certo tipo poi voglia creare anche determinati prodotti che possono essere venduti anzi io credo che a livello proprio produttivo di un film quando si pensa ad un film si pensi anche a dopo quello che si possa vendere partendo da quel film assolutamente in che modo possiamo monetizzarlo nel corso del tempo anche la storia dello Star Wars di George Lucas esatto tutta la percentuale dei ricavi sul merchandise è più alta della percentuale dei ricavi dei film eccetera lui si è inventato un mondo pensando anche a quello inutile negarlo ecco Star Wars è uno degli esempi che nasce dal cinema e diventa un brand esatto diventa un brand con i suoi light motive tra l'altro per me uno dei tradimenti più grossi che sono stati fatti a Star Wars è stato fatto da J.J. Abrams in episodio 7 non so se l'hai visto l'ho visto all'epoca ti anticipo che io non sono un grande fan di Star Wars vabbè ma non importa cioè ci sono delle cose canoniche anche a livello di iconografie di immagini ad esempio le scritte in verticale tu sai che è il film di Star Wars e il finale tipico del cinema di un film di Star Wars è i personaggi che guardano o che sono tutti un bel totalone con i personaggi che si chiude questo oblò nero e partono i titoli di coda sono sempre questi alla fine di episodio 1 ci sono quelli che fanno la pace alzano questa sfera all'improvviso finisce il film in episodio 2 ci sono Anakin e Padme che guardano verso il futuro e finisce il film c'è sempre un totale alla fine con i personaggi principali o con tutti in episodio 7 la telecamera gira di continuo attorno ai due protagonisti del film che sono Rey e Luke gira intorno gira intorno gira intorno e all'improvviso finisce il film e per me è un tradimento enorme perché per me Star Wars finisce col totale non può finire così è assolutamente sbagliato no però questo ci fa capire quanto effettivamente sia possibile creare delle una base comune che poi la gente si immedesima come può essere proprio come fa un brand con i propri prodotti cioè quello di dare degli attributi che la gente possa riconoscere immediatamente e quindi certo alla fine noi stiamo comunicando qualcosa le cose che comuniciamo sono quelle e devono essere consistenti per tutto quello che noi vediamo anche al cinema o nei film o in qualsiasi anche proprio il mood generale di di un brand che poi mi fai una cosa completamente diversa e qua per esempio parliamo di social network di prima perché dico che secondo me il brand in quei casi non ha potuto dire niente ovviamente ovviamente a livello legale ci saranno state delle cose che che avranno visto perché non è che puoi usare il nome di Mark Zuckerberg così a caso però il film su The Social Network è un film anche un po' cupo proprio a livello di sentimento una cosa che non possiamo ritrovare su Facebook che magari è un brand con le sue criticità però sicuramente la sua comunicazione non è cupa e quindi già lì capisci che non c'è un allineamento tra il brand e tra chi il film lo fa cosa invece che non c'è in Hair per esempio il sentimento generale è rimarcato più volte però quello di mettersi in gioco superare i limiti cogliere l'opportunità sono tutte cose che possiamo riscontrare benissimo anche nella comunicazione di Nike generalmente io sono pienamente d'accordo con questa con questa tua visione però dai io credo che di materiale ne abbiamo snocciolato abbastanza ovviamente lascio il link al tuo libro sotto nella descrizione del podcast così chi vuole se lo può andare a recuperare tanto è uscito anche in digitale vero? sia cartaceo che digitale è uscito anche in ebook però voglio chiudere con una domanda visto che abbiamo parlato di tanti film ne abbiamo tirati fuori tanti ce n'è qualcuno legato a questo mondo di brand che ci puoi consigliare che può essere interessante da recuperare allora il primo che mi viene in mente è Blackberry che racconta la storia dei fondatori di Blackberry il telefono che prima di iPhone era diciamo un po' mainstream soprattutto a livello un pochino più business e racconta la storia di questi nerd che hanno creato un'azienda enorme facendo gruppo con un personaggio un po' discutibile secondo me è un film che racconta bene il processo produttivo e creativo in modo leggero e simpatico quindi uno dei film che mi viene da consigliare è sicuramente questo e un altro è The Founder quello di sulla storia di Ray Kroc il fondatore chiamiamolo così di McDonald's che lì mi è piaciuto invece la caratterizzazione sua del personaggio di Ray Kroc che era una di quelle persone che negli anni 60 comprava i vinili per ascoltarsi in albergo sul motivazionale che dici adesso è normale magari sentirsi il podcast motivazionale perché li hai lì ma immaginati negli anni 60 da comprare un vinile che c'era su uno che ti diceva frasi motivazionali e tu te lo ascoltavi in albergo un matto totale che poi le frasi motivazionali degli anni 70 e anche quelle studiate oggi tra l'altro è uscita una serie tv sulla storia di Spotify interessante non direi entusiasmante o particolarmente intrattenente però è interessante perché ogni puntata è la stessa storia da un punto di vista diverso di un personaggio diverso quindi il primo episodio è sul protagonista Daniel Lec il fondatore il secondo è sul suo socio il terzo è sull'industria musicale quindi si ha diciamo la prospettiva di la stessa storia da punti di vista diversi e ci dà anche l'opportunità di capire anche tutte le le implicazioni perché gli interessi di una persona magari non sono gli interessi di un'altra parte e questa è una cosa a mente quando si racconta la storia di un brand perché gli interessi degli artisti è il problema di Spotify gli interessi degli artisti non sono magari gli stessi interessi della casa discografica che non sono gli stessi interessi di Spotify quindi certo anche lì trovare un terreno comune credo che su Netflix sia Max io credo che abbiamo abbiamo snocciolato tanti punti abbiamo fatto una puntata bellissima ti ringrazio lo spero sia interessante grazie a te delle domande e dell'invito no io sono contento di averti invitato sono contento che sei qui perché tu sei il demiurgo del cinema fuggente quindi lo ricordiamo per cui è bello averti qui e spero di ritrovarti quando vogliamo magari approfondire un film specifico perché no perché no magari magari se escono altri film di brand sarebbe sarebbe bello magari parlarne assieme io ti ringrazio per tutte le cose che ci hai raccontato e grazie anche a voi per averci seguito fino alla fine di questo podcast e ovviamente ci vediamo tra 15 giorni con una puntata sul singolo film qua sotto trovate tutti i link di storie di brand e dei vari social di Max per poterlo andare a seguire e curiosare tra i suoi profili tra le sue puntate e ovviamente tra 30 giorni un altro ospite per il cinema fuggente ancora una volta grazie e buon cinema a tutti